Oggi siamo più in tensione del solito perché sicuramente con l'adesione del sciopero, che io ritengo che ci sia abbastanza, i numeri mi dicevano stamattina che sono intorno alle 15 unità, stamattina su Pesaro, sicuramente metteranno un po' in crisi e in difficoltà il servizio a rientro. Abbiamo dieci giorni che abbiamo fatto uscire le comunicazioni per questo sciopero, speriamo di poter in qualche modo riuscire a portare a casa più gente possibile. Quest'anno in totale abbiamo in giro 311 autobus di varie dimensioni e capacità, altri ne stanno arrivando. Le prime tre giornate siamo abbastanza soddisfatti, soprattutto perché quando si misuriamo alla nostra massima capacità, cioè che è l'orario di ingresso dove tutti i ragazzi viaggiano contemporaneamente, riusciamo a garantire un servizio come è normale che sia, non superando in nessun caso i limiti previsti dalle normative. Qualche difficoltà ce l'abbiamo in alcune zone nei servizi che sono all'uscita delle scuole e quindi di rientro a casa dei ragazzi, ma soprattutto perché gli istituti escono prima rispetto agli orari programmati per cui noi abbiamo organizzato il servizio con gli orari definitivi. Abbiamo rilevato nei primi due giorni la zona dell'istituto agrario, quindi Villa Caprile, ieri anche l'istituto alberghiero. Siamo riusciti, perché noi in realtà interveniamo con ulteriori mezzi, ma non ne abbiamo così tanti da poter fare un triplo servizio, perché paradossalmente ci sono degli autobus molto utilizzati o non sufficienti nella fascia oraria che va da mezzogiorno e mezzo a luna e gli autobus vuoti che girano alla fascia delle due, la classica, quella delle 13 e 45. Noi invitiamo a gran voce gli istituti a iniziare immediatamente la programmazione con l'orario, così come comunicato e così come programmato per un regime ordinario. Capiamo anche i genitori, capiamo i ragazzi, per questo, ripeto, se riusciamo a mettere a punto anche l'ultimo pezzetto, che è quello proprio del regime degli orari definitivi, noi siamo convinti che possiamo procedere per il corso dell'anno scolastico con tutta la tranquillità. Le linee che hanno registrato più criticità in questi primi tre giorni quali sono state? Sono sempre quelle dove c'è una gran parte, un maggior numero di utenze, che sono le circolari destra e sinistra, un po' leggermente quella che va verso Romagna, ma fondamentalmente sono queste.